E lei è tappeziere? Sì, ma da poco sa come prima c'è avuto qualche problemuscio. Ah. Di che tipo? Mi facevo come un cammello marocchino! Sono stato 15 anni rovinato! Ma mamma mia, ma sono tutti così tappeziere a Roma? Ma dipende. Poi lo zio Giorgio mi ha dato la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, no? A chicchi, il cipolla è uscito dal tunnel. Non me faccio più! Beh, è una bella notizia. Oh, sento un po' la cosa, signor Cipolla. Lei mi deve scusare, ma io non ho ancora capito. Anzi, noi non abbiamo ancora capito. Lei di che cosa... Di che cosa si faceva? Di cosa si faceva? Pure di farina, basta che era porvere! Ah, chicchi, io sono stato il primo in classifica nell'ippare dei tossici! È curioso, eh? Un tipo. Ah, tu che? Ho gli yogurt senza cucchiaio, come puoi mangiare? Ciò pippiamo, lo tiriamo su col naso. Sei proprio che è un fenomeno, chicchi! Oddio, c'è il cuore! Mamma mia, come sto? Ma con il calcio io sono che fega un fenomeno! Che fega un fenomeno? Mamma mia! Me sento come il nuovo di Pasqua sotto all'arbero di Natale! Strano!